Ecco qua che passa Anna Piangente, perfetto, allora io mi vado a salire, eh Vai, vado nella casetta? Sì, sono qua sopra, questa vi devo dire la verità, eh, di solito le strutture le costruivano Ah, c'è un pappagallino impiccato qua sopra, signori e signore Vai, che cosa orribile! Molto orribile, c'è anche un libro con un simbolo di pericolo Ma liberalo! Attenzione, libero, e non vorrei che magari tagliando la cosa, cioè togliendo lì magari esplode qualcosa Vabbè, tanto vola, non si impicca Leggo, se stai leggendo questo libro sappi che questa sera qualcuno di voi morirà un'altra volta Ancora, tu sei minacce Io basta No, io no, spero Io sono già stato attentato Ogni giorno un'altra